Durante il mese di giugno il Laboratorio Biochimica di Padula ha organizzato una campagna di screening per la prevenzione del tumore al colon retto, un'iniziativa che ha riscosso molta partecipazione con un alto numero di persone che si sono sottoposte agli esami. Con l'esperta biologa Simona Avitabile abbiamo tracciato un bilancio del mese dedicato alla prevenzione. Al fine giugno si è conclusa questa campagna di screening per la prevenzione di diagnosi precoce del tumore al colon retto e dobbiamo dire che i risultati hanno superato ogni aspettativa. Tra i tanti infatti che hanno usufruito del nostro servizio circa il 5% dei pazienti è risultato positivo al test che se andiamo a considerare che in un screening di prevenzione anche l'1% è da tenere in considerazione diciamo che c'è stata una casistica importante. I pazienti sono subito dopo stati informati del risultato proprio perché possano seguire un itera adeguato sicuramente grazie al nostro ausilio e poi soprattutto grazie all'ausilio del loro medico. Diciamo che l'affluenza al laboratorio è stata così tanta da far ritenere appunto importante l'informazione della prevenzione ed è proprio per questo che il laboratorio biochimica vuole organizzare altre iniziative proprio nel prevenire altre patologie e quindi a più presto daremo informazioni più precise su altre campagne che vogliamo organizzare.